Adesso tu mi hai detto che non era bello il video, questo è quello che ho condiviso oggi nel Telegram, mi hai detto, sti video andavano nel 2008, bleh bleh bleh, sti video del 2008 andavano, siamo bravo, bravo! Video epico, video epico! Ciao Simo, oggi ho lasciato la tipa dopo tre anni, dopo i vari cazzi per me sei morto, eccetera, me so preso male perché non mi è interessato particolarmente, in ogni caso ci vediamo il 7 aprile. Vabbè, meglio così, almeno non stai male, vai che cazzo le frega mica di... guardate, video epico! Epico bro! Ma questo fa gli edit agli cuti dei... ma questo dovrei varlo. Bro! Bro! Non potete di cre... è epico! Guarda! Guarda quanto si sbatte! 2019 comunque. Senti, quando è scelto sto video? 2020! Non fa chifo 2008. Guarda questo qua, questi sono più epicidi. Guarda! Epico bro! Botte! E video edit! Ma che cazzo lo vedete più? Figa e macchine? Guarda! Epico! Epico! Guarda bro! Se l'ha smolecolato come... Come lo schiocchi di Gaitanos! Ma che cazzo ragazzi non... I giovani d'oggi non... Cosa vi piace? Cosa piace ai giovani d'oggi? Eh? Vi faccio vedere io i video che vi piacciono a voi. Questi sono i video che vi piacciono a voi nel... Nel 2022. Ragazzi allora... Il covid è durato più o meno due anni. Non so se concordate con me ma sono stati due anni bruttissimi. Umanamente, mentalmente brutti per tutti. L'altro ieri ci avvisano e ci dicono... Anzi ieri. Che finalmente questo periodo è quasi finito, siamo al termine. Grazie Shippo! Grazie per avermi seguito. Io ho tantissima paura. Non sono super informata a riguardo quindi se ne sapete più di me... Fatemi sapere. Voglio sapere anche la vostra opinione a riguardo. Io spero solamente che tutto questo finisca presto e che non ci siano conseguenze o qualcosa di più grande. È brutto pensare che accadano ancora queste cose. E che comunque sta andando di mezzo tanta gente innocente. Ci vivi e presto. Un anno di noi. Che poi io sono una persona ansiosa, ragazzi. Mi sono andata stamattina e ero lì a piangere nel letto alle 7 di mattina. Cambia. Cambia! Che è cringe, cringe? 2008! What? Epico! Epico! Guarda! Roba epica! Figata incredibile! Cristo è 6-4 mesi, è male al 19. Grazie Colcino Baby. Roba epica! Quello che vi piace a voi. Che paura. Vabbè, speriamo solo bene. Fatemi sapere la vostra opinione a riguardo. Però è assurdo. Mi presti un euro per la pensione? Due anni di covid e adesso ho fatto una guerra. Non è giusto. No, we got fans out of land. 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 Tringe di rilano. No, no, no. Epico? No, non mi piace! Tu ci lascia in più. Non vi piace! Epico? Let's go! Quello che vi piace a voi. Come on! Mi lascia giocare con un'attentata. Baby, che fai? Lascia solo che ti sciogga. Come fanno le boy band. Baby, che fai? Ti regalerò una rosa. Solo cuore, amore e droga. Ma se mi parti con tutti gli occhi che mi guardano. Non è nai. Sai che mi parlo? Vado forte. Ma vedi, è piccolo il mondo. Ci rigira, finisce che mi giri intorno. Ho saputo che hai sempre me in bocca. E lì c'è un back scopando back. Tutta tatuata. Tete si rigonate. Culo maculato. Muove la colletta. Mi llama se ti hace falta che ti assicuente. Llegate a mi via de valle tan rapido. Guarda. Quello che piace a me. Bellissimo. Guarda. Epico cazzo. Epico. Laser, bro. Laser robot. Spade. L'avero tanti. Simo, domanda importante. Meglio una donna con i peli nel cuo o alle ascelle? Do, dappertutto i peli, porco. Due. Più peli, più caroma. Ciao, pelatone. Ti sei già messo d'accordo con i featuring del Twitch Tape? Sì. Non è vero. Lo faccio domani. Tra l'altro il Twitch Tape è domani. Vabbè, lo faccio domani. Ragazzi. Guardate, è così che si fa. È improvvisazione. È live. Non è che posso organizzare tutto. Ma sei una cazzo di astronave. Sei gigante. 27 zotti. Ehi buoni. C'è chi ha il rumore. E non lo fai. C'è booo. Vaffanculo, brother. Vaffanculo, brother. Vaffanculo, brother.